Roma 7 novembre 2018 siamo nella sede di Conf Commercio in piazza G Belli a Roma per la settima edizione degli stati generali del vending quella 2018 ci troviamo in compagnia del presidente di Confida Massimo Trapletti che intanto invitiamo a salutare. Buongiorno a tutti e benvenuti in questa settima edizione sicuramente un'edizione molto importante con argomenti assolutamente di attualità che parleremo durante l'intervista. Bentornato a te e passiamo dunque a quelli che sono stati i temi toccati nella prima parte di questa giornata. Nella prima parte abbiamo trattato due tavole rotonde una sulla certificazione dei corrispettivi e l'altra sul divieto della plastica direttiva europea che cerca di diminuire l'emissione della plastica nei mari e di cui noi del vending sicuramente non contribuiamo. Abbiamo parlato molto spesso su vendingnews.it e nella rivista Vending News di questo ultimo argomento. Qual è la tua opinione Massimo? La mia opinione è che come ho detto nel mio intervento sia stata fatta una direttiva in fretta senza valutare le conseguenze economiche nel settore a parte il nostro che sicuramente non è importante per l'Europa ma è importante per noi e le ricadute economiche nel nostro settore soprattutto in Italia per quanto riguarda sia le imprese che producono monouso sia per le imprese di gestione è molto importante. Di conseguenza riteniamo e come abbiamo tentato di fare in Europa di far accettare degli emendamenti proposti da noi come confida Italia ma non supportati dalla stragrande maggioranza dei parlamentari solo 50 italiani hanno capito la nostra problematica hanno cercato di inserire gli emendamenti come siamo riusciti a fare ma malgrado questo la direttiva è passata perché è una direttiva che guarda esclusivamente a un discorso elettorale di immagine di spot televisivi e di conseguenza non ha valutato in assoluto le ripercussioni economiche sul settore nostro e non solo nostro ma anche di tutte le imprese che producono per esempio acque minerali che producono bottiglie di PET non solo anche bicchieri monouso palette dove noi siamo ancora come una volta nel vending il leader a livello internazionale e queste aziende che da domani dovrebbero smettere di produrre le palette in plastica per esempio e non hanno neanche il tempo di poter convertire la loro produzione ma sono destinate a vedere andare in crisi la propria società proprio per una valutazione veramente frettolosa da parte della commissione europea e soprattutto perché nel vending il 97 per cento di quello che noi generiamo come rifiuto viene recuperato dalle municipali e di conseguenza non incide assolutamente con l'inquinamento del mare. Abbiamo anche visto nel corso della mattinata la presentazione del progetto realizzato da Confida insieme a Flo S.p.a. a Corepla e un'unplastica dedicata al riciclo che si diceva rivending. Questa potrebbe essere certamente un'ottima ragione da presentare all'Unione europea per il recupero e la sostenibilità della plastica in questo settore. Sì, qui parlano di riduzioni o addirittura di abolizione della plastica in determinati settori o segmenti senza considerare come dicevamo prima quali sono i settori che possono inquilinare. rivending è un'esperienza che stiamo portando avanti con molto interesse noi di Confida insieme a Union Plast e Corepla proprio per dimostrare che è possibile riciclare il cento per cento del polistirolo dei bicchieri e delle palette e riutilizzarli fare di tornare ad essere bicchieri e palette da riutilizzare nel vending. Quindi non è più considerato monouso ma è pluriuso e quindi porteremo questa nostra istanza ai parlamentari italiani perché prima di poter essere recepita la direttiva europea deve essere analizzata dai nostri parlamentari e forse qui c'è una sensibilità leggermente diversa proprio perché abbiamo delle società che sono leader in Europa e le dovremo tutelare fino all'ultima possibilità che abbiamo. E noi appoggeremo le vostre iniziative dandone ampia visibilità non solo in termini nazionali ma internazionali. Massimo parliamo invece del primo argomento quello legato alla fatturazione elettronica che prenderà il via proprio dal primo gennaio. Sì la fatturazione elettronica è una conseguenza diciamo che noi siamo già allenati da questo punto di vista perché la certificazione dei corrispettivi e la trasmissione telematica dei dati che abbiamo sviluppato insieme all'agenzia delle entrate diciamo che ha allenato il settore ad essere già preparato per la fatturazione elettronica. Sicuramente i dati che ci hanno dato oggi sia Piancaldini che il viceministro e il vice direttore sul dato di trasmissione è molto positivo perché abbiamo soltanto un 0,4 per cento di dati impuri e abbiamo raggiunto un 5 per cento di dati che non corrispondono a quello che potrebbero essere ma è un dato fisiologico come hanno messo loro e la cosa più importante che oggi è passata e sembra che abbiano confermato che per il 2023 quando sarà la fase definitiva dell'implementazione della certificazione dei corrispettivi non ci dovrebbe essere nessun costo aggiuntivo per quanto riguarda le società oltre quello che hanno già supportato perché si potrà soltanto o si dovrà soltanto affinare insieme a loro quelle che sono le trasmissioni attuali con gli strumenti attuali e quindi il settore se riceviamo come positiva la risposta che ci hanno dato non dovrebbe essere ulteriormente danneggiato. Parliamo ora di quelli che sono gli argomenti da trattare nelle prossime quattro ore. È un altro argomento molto importante l'iperammortamento impresa 4.0 dove ancora una volta io sono uno dei promotori che spinge il settore a osare soprattutto per cambiare il suo fare impresa perché se c'è un infinanziamento o un aiuto che ci dà lo Stato lo fa esclusivamente per l'innovazione tecnologica quindi i gestori non devono avere paura di questo cambiamento di questa innovazione devono usufruire di questo finanziamento o di questo aiuto che lo Stato ci sta dando e investire in questo momento perché oggi ce l'abbiamo e se riusciremo a sfruttarlo avremo tutti una grande opportunità perché il vending di domani passa attraverso il controllo remoto delle macchine, il servizio migliore che si può dare all'utente attraverso il controllo delle macchine remoto e soprattutto il fatto stesso che i big data stanno diventando un aspetto importante anche per noi come per tutto il settore fa sì che questo cambiamento lo dobbiamo fare anche noi come settore altrimenti lo saremo costretti a farlo dopo senza avere gli aiuti da parte dello Stato e questo ritengo che sia un danno per il nostro settore quindi stimolo tutti in assoluto a considerare questa opportunità e noi come confida mettiamo a disposizione anche uno sportello dedicato a impresa 4.0 che aiuti i gestori che abbiano dei dubbi possono chiamarci in qualsiasi momento chiarire quali sono le problematiche che hanno o i dubbi che hanno e noi saremo in grado di poterli aiutare e a risolverli e quindi dargli questa opportunità passa una volta nella vita lo abbiamo avuto con grande sacrificio soprattutto attraverso l'attività di confida e di alcuni personaggi della commissione tecnica che hanno lavorato con con il ministero se non lo sfruttiamo secondo me perdiamo grande opportunità grazie massimo per il momento amici non andate via perché tra pochi istanti inizia la seconda parte degli stati generali del venning 2018 grazie ancora massimo trappelletti grazie a tutti e agli prossimi stati grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti